Buongiorno cari amici di Quelchebolla in pentola, io questa mattina mi trovo alla trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicoli. Buongiorno. Buongiorno chef, grazie dell'ospitalità in questa bellissima cucina. Grazie a voi. Tu stai preparando qualcosa di non buono, buonissimo, che cos'è? Oggi andremo a fare un gnocchetto con asparagi, ricci e un assoluto di limone. Allora, come partiamo chef? Iniziamo. Abbiamo preparato gli asparagi? Sì, che vengono pelati e tagliati semplicemente. Andiamo in padella, padella sempre molto calda. Padella calda, olio. E andiamo con gli asparagi. Via. Allora, gli asparagi devono rosolare per quanto? Rosolare, sì, sì, 30 secondi, è importante che rimangano sempre croccanti. Le andiamo a salare poco poco. Ecco qui, un po' di sale. Così. Gnocchetti. Gnocchetto, semplicemente patata e farina. Giusto, giusto, un uvetto. Un uvetto, bene. Ecco qui, i meravigliosi rumori della cucina. Non ci abbandonano mai. Vero? Ma voi fate le cose strepitose, devo dire, voi chef. Allora, buttiamo il gnocchetto. 30 secondi. 30 secondi, subito si cuoce. Nel mentre se vuoi vi spieghiamo come facciamo. Esatto, questo è assoluto di limone che mi interessa. Un assoluto di limone. Prendiamo semplicemente dei limoni non trattati, li mettiamo al forno a 50 gradi per 2-3 ore. Fino a quando dentro li diventano proprio morbidi, morbidi, morbidi. Aspettiamo che si fredda, li tagliamo a metà, estraiamo la polpa e lo filtriamo. E questo è il risultato che viene. Bellissimo. Limone, proprio un odore di limone, come puoi sentire. Sì. Fortissimo. Straordinario, bene. Allora, nel frattempo sono pronti già i nostri gnocchi. Sì, sì. Perché sono passati quei 30-40 secondi. E li andiamo a scolare. Quindi li andiamo a scolare, li mettiamo in padella con gli asparagi. Eccoli qui. Ok. E poi, chef. Eccoci qui. E manca solamente il riccio. Quindi, se ti posso chiedere un cucchiaio, gentilmente. Certo. Voilà. Pronti per il riccio. Facciamo tirare la nostra salsa. Che bello. Colore bellissimo. Profumo. Profumo straordinario. Loro non possono sentirlo, ma io sì. Beatrice Fabio. Non solo sento l'odore, ma sono preparata anche qua una porchettina subito, subito. Cioè, una cosa tra noi. Sei pronta? Certo. Pronti? Allora, andiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare. Ci siamo. Prendo. Eccolo qui. Allora, un gnocchetto meraviglioso con asparagi, ricci e limone. Qui alla trattoria del mare. Grazie a Luca. Grazie a te. Sempre un piacere. E voilà. Ci siamo. E finiamo? Vai. Lascia a te. Gendola, questo proprio assoluto di limone. Assoluto di limone. Proprio molto poco. Meno di un... Perfetto. Il mio tocco c'è? Sempre. Ma il tuo è migliore. Grazie, Chef. Grazie mille. Sono pronta ad assaggiare. Grazie mille.